ciao a tutti bentornati sul mio canale sono francesca sono un assistente di volo anche se questo mese mi avete visto in divisa molte poche volte perché sono di riserva se non avete ancora visto i miei ultimi due video sulla riserva e anche sui turni vi invito ad andarli a vedere e oggi voglio parlarvi invece di quanto guadagna l'assistente di volo perché so che molti di voi siete curiosi di saperlo quindi cominciamo subito a fare i conti in tasca ovviamente non andrò proprio nel dettaglio perché non posso farvi vedere la mia dichiarazione dei redditi però voglio darvi un'idea perché con questo lavoro il nostro guadagno è veramente variabile e molto flessibile quindi prima di tutto dipende dall'anzianità aziendale visto che ormai sapete che questa parola è costante nei miei video e poi dipende anche ovviamente dalle ore che volete lavorare voi la nostra retribuzione si basa su molte voci quindi per questo dico che è variabile ovviamente quella principale è quanto prendiamo all'ora di volo quindi quando dico ora di volo intendo quando noi siamo sull'aereo e con la porta chiusa quando si comincia il primo anno si viene pagati circa 30 dollari all'ora di volo fino arrivare a 70 dollari all'ora di volo una volta raggiunti i 13 anni di anzianità aziendale questo vuol dire che dopo 13 anni può avere 13 anni 14 15 20 25 30 40 50 comunque prendi sempre 70 dollari all'ora ovviamente ogni anno c'è un aumento graduale verso il miraggio dei 70 dollari all'ora nei mesi che siamo di riserva noi abbiamo come garanzia di diciamo di ore lavorate 75 quindi questo è quello che guadagneremo facciamo finta di avere un anno di ansiedità sarà 30 dollari per 75 ore se siamo di riserva oppure 71 ore garantite se siamo line holders quindi se abbiamo i nostri turni normali c'è da dire che di solito è molto facile avere anche più di 71 ore quindi per darvi l'idea a me il mese prossimo ne hanno dato 86 se ne avessi volute 100 sarei anche riuscito averle 100 se ne avessi volute 40 perché 40 invece il minimo che dobbiamo volare per mantenere comunque le nostre certificazioni sarei riuscita comunque anche averne 40 perché io sono base miami dove è una base molto flessibile ci sono basi dove invece è molto difficile magari prendere più voli perché tanta gente vuole volare tanto oppure addirittura basi dove è molto difficile volare meno ore perché nessuno vuole prendere i turni degli altri colleghi la retribuzione però non si ferma qui all'orario di volo quindi chi è già del settore sa bene ci sono le ore di volo e poi ci sono le ore di servizio ora vi faccio un esempio concreto per farvi capire qual è la differenza visto che se non siete dell'ambiente magari non lo sapete facciamo finta che domani ho un turno di quattro tratte magari mi faccio miami havana havana miami miami havana havana miami le ore di volo sono veramente pochissime maia mia ma non sono credo neanche un'ora di volo praticamente quindi in tutta la giornata se vogliamo proprio esagerare sono cinque ore di volo quindi quello e sono le cinque ore moltiplicate per la cifra che vi ho detto prima che vengo pagata ma io non lavoro cinque ore domani probabilmente se mi devo fare quattro tratte del genere minimo minimo nel lavoro 8 barra 10 ore quindi queste ore che non sono in volo però sono comunque in servizio vengono pagate solamente la diaria la diaria dipende se il volo internazionale o nazionale quindi sono 250 nel caso in cui stiamo andando a lavora perché internazionale e 220 invece se stiamo facendo un volo interno quindi vi ho detto che magari sono 10 ore di servizio vuol dire che 5 ore me le pagano all'orario di volo e 10 ore me le pagano quindi 2 dollari e 50 all'ora quindi 25 dollari questa diaria in teoria percepita come diciamo rimborso pasti molti assistenti di volo si portano i passi da casa io però non sono una di quelle penso che di solito il primo giorno quando sto partendo da casa si mi porto la mia insalatina mio panino insomma qualcosa da casa ma poi se faccio voli comunque di più di un giorno di solito compro il cibo dove mi trovo quindi spesso io spendo anche molto di più della mia diaria in questo caso vi ho fatto un esempio di un volo giornaliero quando noi invece abbiamo voli di più giorni questa diaria viene calcolata su tutte le ore che siamo lontani da casa quindi altro esempio facendo che so mi ami madrid stando a madrid 24 ore e tornando indietro il giorno dopo facendo madrid miami in tutto più o meno si sta via di casa 50 ore queste 50 ore vanno moltiplicate per i 250 quindi quanto fa 250 per 50 prendiamo la calcolatrice e dunque vediamo 125 si dai più o meno quindi sono 125 dollari di diaria quindi diciamo che la nostra paga oraria più il per diem che sarebbe la diaria sono le due voci principali però a questo si aggiungono tante altre cose ovvero se uno è per se allora il per se sta solo a bordo dei voli intercontinentali oppure a bordo di alcune tratte che sono considerate flagship come per esempio il miami los angeles è considerato flagship quindi in quel caso c'è bisogno del per se a bordo se ha tutti gli altri voli nazionali o comunque anche internazionali ma che appunto non sono considerati flagship hanno il responsabile di cabina che è il numero uno quindi in quel caso chi fa il responsabile di cabina guadagna leggermente di più degli altri semplicemente perché se alla fine succede un problema sono fatti del numero uno quindi per quello ci pagano leggermente di più se invece sia per se si guadagna molto di più perché comunque il per se è uno che ha fatto un corso apposito e anche lì per se va semplicemente ad anzianità aziendale quindi non a meritocrazia altra voce che ad aggiungere alla nostra paga è se il volo è internazionale quindi se è internazionale diciamo più di breve raggio sono tre dollari in più all'ora di volo se invece è intercontinentale sono tre dollari e 75 in più all'ora di volo adesso dopo che vi ho fatto questo piccolo riassunto con tutte le voci dello stipendio voi mi starete chiedendo quindi quant'è il totale e però vi devo dire che appunto molto variabile perché se un mese voglio volare 40 ore guadagno tot un mese dopo voglio volarne 70 poi 80 ci sono quelli che vi ho detto anche nell'ultimo video ne volano 200 quindi potreste essere quasi sotto la soglia di povertà oppure guadagnare un sacco di soldi è veramente una situazione personale e adesso avrete anche capito come mai i voli intercontinentali sono comunque quelli più ambiti oltre ad essere destinazioni più glamorous che andare ad ocla oma city si guadagna anche di più quindi ovviamente quelle più senior decidono sempre di volare quelle tratte lì adesso che vi ho dato un po di numeri così a caso è preso la calcolatrice fatto due calcoli posso darvi un'idea dello stipendio lordo di ora si sente di volo ne ho assunto che guadagna 75 ore solamente ho calcolato 200 ore di diaria perché ovviamente ne ha assunto dubito che venga mandato nelle destinazioni glamour internazionali e poi invece lo stipendio di 75 ore di volo di chi è a top pay quindi chi ha già raggiunto i tredici anni di anzianità aziendale e probabilmente fa anche voli intercontinentali il poveretto appena assunto guadagna circa 2.700 dollari al mese mentre chi lavora già da più di 13 anni per le stesse ore di lavoro però guadagnando in più anche l'internazionale guadagna più di 6.000 dollari al mese ovvio che ci sono tutte le vie di mezzo ci sono quelli che magari lavorano 200 ore al mese quindi guadagnano quasi il triplo e questo però è lo stipendio lordo negli stati uniti non è come in italia che si viene tassati quasi al 50 per cento qua la vostra tassazione dipende ovviamente da quanti soldi guadagnate ora quello ne assunto probabilmente di tasse pagherà forse anche 0 per cento secondo me o al massimo un 10 per cento quello che invece guadagna 6.000 dollari li dipende comunque se anche altri ingressi se è sposato se ha figli quindi non posso darvi un'idea comunque secondo me la tassazione non potrebbe essere più del 20 per cento questa tassazione poi dipende anche dallo stato dove si risiede io avevo in florida quindi io devo solo pagare le tasse allo stato federale americano e non devo pagare nessuna income tax alla florida perché la florida è uno stato che non ha income tax quindi facciamo un altro esempio io che sono base miami e una mia amica che magari è base new york che magari abbiamo le stesse ore di volo che abbiamo la stessa anzianità abbiamo fatto quasi gli stessi voli io guadagno un po di più di lei perché lei deve pagare le tasse anche allo stato di new york mentre io non devo pagare niente siccome questo non è un video di tassazione e poi comunque non sono contabile non mi addentro di più in questo argomento anche se ci sarebbe da parlarne però calcolate che in queste tasse non è inclusa la pensione non è inclusa l'assistenza sanitaria quindi queste sono cose che poi uno privatamente deve pensarci ovviamente vi ho già detto che vi farò un altro video per quanto riguarda la sanità quindi includerò questo aspetto volevo solo fare questo video perché insomma in tanti me lo chiedete quindi adesso ho svelato il mistero di quanto guadagniamo e ovviamente lavoro dove si fa la gavetta perché all'inizio si guadagna veramente poco perché dicendo 2.700 dollari voi magari può sembrare a un sacco di soldi verità non è così perché poi appunto quello bisogna aggiungere l'assistenza sanitaria bisogna magari pensare già mettere i miei soldi della pensione ci sono altri lavori che magari uno potrebbe fare dove guadagnerebbe di più però non sarebbe pagare il lavoro dei propri sogni e poi comunque c'è una prospettiva di carriera a livello sicuramente almeno economica perché insomma passare da 30 dollari allora arrivare a 70 capite che è un bel salto però insomma bisogna arrivarci spero che questo video vi abbia tolto qualche curiosità per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo volo ciao